Si torna a parlare di patrimonio boschivo dei Monti Dauni con la presentazione del bilancio sociale del progetto Ecol Forest. Siamo con Matteo Cuttano che oggi rappresenta il GAL Meridaunia a questo incontro. Si tratta di un momento non nuovo ma sicuramente interessante per quanto riguarda il resoconto delle attività svolte perché il bilancio sociale che è obbligatorio per alcune categorie di imprese, in modo particolare quelle che operano nel sociale che sono obbligate alla formazione di un bilancio ulteriore che è un bilancio sociale che va depositato presso la Camera di Commercio entro il 30 giugno di ogni anno anche il settore forestale ha inteso portare avanti un'ulteriore capacità di aggregazione e di resoconto delle attività svolte attraverso quello che non solo sono dati economici ma anche di carattere sociale, cioè quello che si riesce a dare al territorio attraverso l'attività svolta, cioè puntare sempre di più a dare informazione a tutti gli stakeholders di quelle che sono le attività svolte che non sono solo esclusivamente che hanno un riflesso di natura economica ma soprattutto di quello che riescono a dare al territorio. Il ruolo di Meridaunia? Il ruolo di Meridaunia sicuramente accoglie con entusiasmo questo nuovo metodo di valorizzazione e di informazione appunto dei dati messi insieme e dei risultati ottenuti attraverso una serie di attività svolte ma soprattutto di informazione di quelle che possono essere e saranno le nuove attività del GAL nei prossimi anni quindi un coinvolgimento del territorio sempre di più come abbiamo fatto in tutti questi anni sempre di più a trovare soluzioni e opportunità per i nostri cittadini. Sempre più riflettori puntati su questo nostro patrimonio boschivo? Beh sì, il patrimonio boschivo visto però da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva chiaramente noi stiamo lavorando su un'area di interesse ambientale e forestale per la valorizzazione turistica quindi il bosco come attrattore, quindi il bosco che si trasforma da non luogo a luogo a laboratorio di idee, a volano e soprattutto crea lavoro, occupazione e indotto. Oggi presentiamo questo studio fatto dalla Fondazione Garrone nell'ambito delle comunità forestali sostenibili, un premio che abbiamo ricevuto nel 2022 a Ecomondo e tra appunto i premi che abbiamo ricevuto questa menzione speciale la Fondazione Garrone ha commissionato a una società di ALBA che si chiama Ideazione nell'impatto, il report d'impatto sulle comunità. Qual è l'altra foresta dei Monti Dauni? Beh di foresta ce ne sono tante, di boschi anche di interesse tanti. Il problema vero è trovare anche le idee, gli imprenditori, stimolare anche il partenariato pubblico privato che è la cosa più importante ma soprattutto esserne convinti, altrimenti il rischio che nascono tante cattedrali nel deserto e restano chiaramente qualcosa così solo da guardare.